Salve, sono Mario Rubino e mi occupo di nutrizione. In questo video vi parlerò dei beta-glucani. I beta-glucani sono polisaccaridi formati da una catena di molecole di glucosio con poche ramificazioni e si trovano in abbondanza nella crusca dei chicchi di cereali. Soprattutto li troviamo nell'orzo e nell'avena, in quantità minore anche nel sorgo, nella segale e nel frumento. Ma si trovano anche nelle parete cellulare di lieviti, di batteri, dei funghi e anche nelle alghe. I beta-glucani vengono felicemente metabolizzati dal nostro microbiota intestinale, in particolar modo dai bifidobacteri, che sono preziosissimi alleati della nostra salute e che si trovano in prevalenza nel colon. Grazie al lavoro svolto dal microbiota intestinale su questi polisaccaridi si innescano delle funzioni metaboliche favorevoli per il nostro organismo, in particolar modo sullo smaltimento del colesterolo, cosiddetto cattivo, l'LDL, che viene catturato da queste fibre solubili ed espulso con le feci. Esprichono la loro peculiarità anche sul controllo della glicemia perché formano delle soluzioni viscose che rallentano lo svuotamento dello stomaco e riducono l'assorbimento del glucosio nell'intestino e soprattutto modulano favorevolmente il nostro sistema immunitario. Questa capacità di attivare il nostro sistema immunitario è una peculiarità delle catene beta 1 e 3 dei beta glucani e delle sue ramificazioni. Le frazioni beta 1 e 3 migliorano la risposta immunitaria potenziando la capacità dei macrofaggi di rispondere e contrastare batteri, virus, funghi e parassiti. Agiscono legandosi a piccoli recettori che si trovano sulla superficie dei macrofaggi, dei granulociti e delle cellule natural killer. I fagociti così attivati eliminano i corpi estrani e le tossine. Sulla base di dati ottenuti, soprattutto negli animali, in seguito alla somministrazione orale, i beta glucani attraversano rapidamente la parete intestinale e vengono catturati dai macrofaggi. Vengono poi frammentati in misure più piccole e sono trasportate nel bidone nel sistema reticolare endoteliale. Questi piccoli frammenti sono poi rilasciati dai macrofaggi e vengono legati dai granulociti circostanti, i monociti e le cellule dendritiche. I beta glucani innalzano significativamente il numero dei neutrofili circolanti e migliorano la risposta immunologica contro batteri che se in eccesso possono provocare diversi effetti avversi e questi batteri sono soprattutto la candida albicans, lo staphylococcus aureus e le scherichia coli. I beta glucani possono essere solubili, a basso peso molecolare, oppure insolubili, ad alto peso molecolare. Vengono metabolizzati direttamente dal microbiota intestinale, producendo acidi grassi a catena corta che sono utilissimi per il nutrimento e il profismo della mucosa intestinale, oltre ad apportare numerosi benefici per la salute in generale, soprattutto a livello metabolico. Possibili effetti collaterali, purché sono delle ottime fibre, potrebbero avere degli effetti collaterali su alcune persone. E infatti le persone che seguono una dieta povera di fibre dovrebbero iniziare con una dose più bassa di beta glucani e aumentarla gradualmente, perché all'inizio una dose eccessiva di questa tipologia di fibre potrebbe causare disturbi gastrici, gonfiore, flotolenza, se vengono assunte in dose massicce non adatte alla nostra popolazione intestinale di quel momento. E questi effetti collaterali dovrebbero svarire nel tempo, però introdurli lentamente e gradualmente potrebbe evitarlo. E sarebbe molto utile per aumentare il numero di batteri benefici situati nel nostro colon. La potenziale capacità dei beta glucani di simulare il sistema immunitario potrebbe essere problematica, però in caso di condizioni autoimmuni. In questi casi se ne consiglia sempre di valutarne l'uso sotto la supervisione del medico specialista, perché possono risultare controindicati e entrare in contrasto con farmaci ad esempio immunosoppressori. Per quanto riguarda il controllo glicemico, mentre può essere un vantaggio nella maggior parte dei casi su persone sane, deve essere invece sempre modulato l'utilizzo per chi è diabetico e per chi prende anche farmaci ipoglicemizzanti, e quindi richiedere sempre il consulto del proprio medico per valutarne l'utilizzo. Però in questi casi, quando se ne conosce davvero la loro capacità di controllare meglio la glicemia, possono essere anche coadjuvanti e di valido aiuto alla terapia farmacologica, così da ridurre la dose stessa del farmaco. Passiamo all'evidenza scientifica. E vi riporto qua solo una revisione degli ultimi studi recenti sull'impatto dei beta glucani sul microbiota intestinale e sulla salute umana. Recenti studi hanno dimostrato che i beta glucani riducono le concentrazioni di colesterolo e glucosio nel sangue, riducendo il rischio di malattie cardiovascolari e diabete. Oltre ai suoi effetti sui livelli lipidici e sul metabolismo del glucosio, i beta glucani mostrano anche proprietà antiossidanti, eliminando specie reattive dell'ossigeno, riducendo così il rischio di malattie, tra cui la terosclerosi, le malattie cardiovascolari, le malattie neurodegenerative, il diabete e il cancro. Sono stati riportati anche effetti immunostimolanti e antitumorali. L'attività immunostimolante dei beta glucani avviene in conseguenza del suo attaccamento a specifici recettori presenti sulla superficie delle cellule immunitarie. I beta glucani appartengono al gruppo dei prebiotici, che stimolano la crescita dell'attività del microbiota intestinale sano, inibendo la crescita dei batteri patogeni. Svolgono un ruolo importante nel corretto funzionamento del tratto gastrointestinale e nella prevenzione dell'infiammazione e del cancro del colon. Un tale numero di benefici per la salute derivante dalla proprietà dei beta glucani può svolgere un ruolo chiave nel miglioramento della salute e nella prevenzione di malattie croniche non trasmissibili, come il diabete, l'ipercolesterolemia, l'obesità, le malattie cardiovascolari e il cancro. Adesso passiamo al momento della messa in pratica alimentare. Quindi, come ottenere i benefici dei beta glucani dalla dieta, dottor? Allora, possiamo iniziare a inserire regolarmente avena, soprattutto in fiocchi. Facendo i classici porridge, utilizzando anche le varie farine, però ricordate che il processo di raffinazione può deteriorare il chicco intero, quindi perdere parte della crusca dove risiedono i beta glucani e quindi ridurne le sue proprietà nutrizionali. Sempre meglio quelle in fiocchio o addirittura la crusca di avena. Altro cereale molto ricco di beta glucani è l'orzo a chicco intero. Quindi quello classico da zuppe. Può utilizzarlo anche con insalate fredde, ad esempio al posto del riso, o come accompagnamento. Anche quello soffiato, ad esempio, a colazione con dello yogurt, del latte o delle bevande vegetali. Poi inserirei sempre i funghi, che sono straordinari in tutte le salse, e li utilizzerei in tutte le varianti possibili, perché ce ne sono davvero tanti. Però cercate di evitare quelle velenose e tossiche, mi raccomando. Anche andare su quelli più economici, che è abbastanza raccomandato, come gli champignon, i prataioli, i pleurotus, i chiodini, i pioppini. Ma per forza bisogna andare sempre sui porcini dell'Etna, se volete risparmiare. Quindi il mio consiglio è quello di verarli sempre e inserirli anche quotidianamente, sperimentando nuove ricette. Anche quelli in polvere, i cosiddetti medicinali, vi consiglio di provare. Come i reishi, lo shiitake, il cordyceps, il lion's mane. Sono tra i più ricchi di beta-glucani e facilmente reperibili nei vari negozi specializzati o online. Li potete usare come semplice condimento spolverato sulle pietanze, o da unire a salse e sughi. Danno veramente un buon sapore sapido e molto fungoso. Inoltre hanno anche altre proprietà molto interessanti, a livello no-tropico, quindi neurologico e celebrare, ma anche endocrino. Ma su questo possibilmente ci farò un altro video. Quindi per me queste sono attualmente le principali fonti di beta-glucani più facili da reperire e da inserire nella propria dieta. Avena, orzo e funghi. Ovviamente anche altri cereali come il sorgo, la segala e il frumento ne hanno, però in quantità minori. Poi ci sono anche i lieviti alimentari e le alghe, che però devono essere consumati in abbondanza per ottenere buone quantità di beta-glucani. Quindi se avete la possibilità usate sempre il lievito di birra per fare le vostre panificazioni e pizze. E se vi piace consumare alghe, come ad esempio la kelp, la spirulina, la kombu e l'alga bruna, sono ottime anche per il contenuto di minerali come iodio e selenio, utili soprattutto per mantenere e potenziare la funzionalità tiroidea nella sua produzione di ormoni fondamentali per il nostro metabolismo. I beta-glucani si trovano anche in integratori. Però mi consiglio di non spendere i soldi, perché prenderli sempre dagli alimenti è la soluzione migliore, soprattutto per questo genere di fibre che l'alimento stesso contiene, che probabilmente viene assimilato meglio perché entra in contatto sinergico con tutte le proprietà dell'alimento stesso. Quindi provate ad inserire questi alimenti nella vostra dieta, andateci sempre gradualmente e gustateveli nel migliore dei modi. Ok ragazzi, questo video termina qui. Al solito vi chiedo di iscrivervi al canale e di condividere questi utili video che possono cambiare il mondo e far riflettere di più la gente e aiutarmi a far crescere questo progetto, perché spero di portarvi sempre informazioni utili, curiose e che possono migliorare il vostro stile di vita. Grazie per la visione, ci vediamo al prossimo video. Un abbrazzo e pura vita! Grazie per la visione!